In studio Veronica Puglisi. Buonasera a tutti e benvenuti alla nuova edizione di MTG. In apertura parliamo dell'omicidio Nievallo Piccolo avvenuto a Rosolini il 17 agosto scorso. Perché il medico legale ha chiesto la proroga dei termini per la deposizione della relazione sull'autopsia. Esclusa la violenza sessuale di cui si sta discutendo in queste ore, emergono nuovi retroscena sulla vita della madre della vittima, Letizia Spatola. La causa della morte del bambino di 21 mesi di Rosolini e Evan Lopiccolo è da stabilire con certezza. Esclusa invece la violenza sessuale. Mantiene ancora in riservo il medico legale Francesca Berlich, incaricata dalla procura di Siracusa per stabilire come morto Evan nella tarda mattinata del 17 agosto scorso, quando è arrivato già in fin di vita all'ospedale maggiore di Modica. I medici increduli hanno visto un corpo martoriato dagli abusi e dalla violenza dalla testa al torace. La dottoressa Berlich ha chiesto sabato scorso la proroga dei termini perché la perizia è collegiale. Si attende l'esito dell'anatomo patologo e le relazioni di altri professionisti che chiuderanno il cerchio e ci diranno cosa ha subito il piccolo prima di morire. Dieci giorni prima dell'omicidio è stata registrata un'intercettazione ambientale nella cameretta di Evan dove si evince con molta evidenza che Blanco si stava masturbando davanti al bambino, come scrivono gli inquirenti, perché in sottofondo si sente prima Evan respirare in modo affannoso come se stesse soffocando, poi un breve pianto e successivamente tutto torna alla normalità quando dalla camera Blanco si allontana per rispondere al telefono. Si parla di atti di perversione di Salvo Blanco più che di violenza sessuale, un'ipotesi che ha anche escluso il medico legale. In quell'abitazione i servizi sociali ci sono andati ma poi il piccolo Evan è stato abbandonato al suo vile destino. Se ci fosse stata l'azione più incisiva e celere dei servizi sociali il bambino sarebbe ancora vivo, secondo l'avvocato del papà di Evan Stefano, il quale avendo precedenti penali ha deciso di evitare di agire con imprudenza lasciando che la pratica fosse seguita dalla madre. La nonna del piccolo l'ha tenuto per tre giorni a casa perché l'edizia spatola ha raccontato che doveva svolgere dei lavori verso la fine di luglio e primi di agosto e invece è stata ricoverata in ospedale per l'interruzione di una terza gravidanza. L'edizia era incinta di Salvatore Blanco. È una circostanza che si evince anche dalla relazione dei servizi sociali in un contesto dove l'aggressività, le urla, le botte erano all'ordine del giorno. Tra un paio di settimane sarà depositato un incidente probatorio del fratellastro di Evan, il bambino di sei anni, ritenuto il testimone chiave che era nell'abitazione di Via Eloro al numero 6 il 17 agosto. È stato il minorenno ad aver accusato il papà di Evan di maltrattamenti, anche se durante l'escussione il piccolo non ha, secondo i legali, riferito determinanti e utili elementi alle indagini sia sull'omicidio che sul fascicolo con l'ipotesi di reato per maltrattamenti in famiglia che la procura retusea, per atto dovuto, ha aperto nei confronti di Stefano Lopiccolo. Lui, che ha visto l'ultima volta il figlio vivo il primo dicembre 2019, quando è riuscito ad entrare nell'abitazione dove c'era Evan alla presenza dell'ex suocero, non l'ha presa bene Letizia Spatula, che arrivata poco dopo ha invitato Lopiccolo ad uscire di casa sferrando in una coltellata sfiorandola all'altezza della giugolare. Una versione diversa l'ha fornita il difensore della Spatula, l'avvocato Natale Di Stefano, il quale ha riferito che la coltellata è stata sferata perché Stefano Lopiccolo stava malmenando il figlio di sei anni di Letizia Spatula. Questo è l'atto di convalida di sequestro dell'arma bianca intrisa di sangue che Letizia Spatula aveva con sé un coltello a scatto di 13 centimetri con una lama lunga 7 centimetri. Un processo questo ancora aperto, avviato a seguito della denuncia dei sanitari ai quali si era rivolto. il papà di Evan, per essere medicato. Voltiamo adesso pagina. Botta e risposta tra l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza e il capigruppo del Movimento 5 Stelle del PD a Lars. Secondo questi ultimi, l'esponente del governo Musumeci ha impedito che i componenti del comitato tecnico-scientifico fossero presenti oggi all'audizione prevista in Commissione Salute. Immediata la replica di Razza. Nulla da nascondere, anzi ricordo che a differenza del comitato tecnico-scientifico nazionale tutti gli atti del comitato tecnico-scientifico siciliano sono sempre stati nella disponibilità di chiunque. Domani saranno comunque ascoltati dalla Commissione Salute a Lars sia responsabili del CTS regionale sia altri rappresentanti. Risponde così l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza alla polemica sollevata dai capigruppo del Movimento 5 Stelle e del PD a Lars Giorgio Pasco e Giuseppe Lupo, assieme ai componenti della Commissione Salute delle due formazioni politiche Salvatore Siragusa, Francesco Cappello, Antonio De Luca, Giuseppe Arance e Antonello Cracolici. Oggi, hanno scritto i deputati, al comitato tecnico-scientifico costituito quale organo consultivo a supporto del presidente Musumeci, neocommissario al Covid, è stato impedito di essere audito innanzi la Commissione Salute dell'Assemblea regionale siciliana. L'assessore Razza, che sul CTS non ha alcun titolo, ha adotto presunte ed ingiustificate ragioni di riservatezza, scrivono. La cosa assurda, hanno dichiarato, è che Razza non ha poteri di gestione sul CTS in quanto è Musumeci il commissario per l'emergenza Covid e, pertanto, venga lui a riferire in Commissione insieme ai componenti del CTS. L'intero comitato tecnico-scientifico non viene convocato in Commissione parlamentare neppure dal Parlamento nazionale, riporta la nota di Razza. L'onorevole Lupo e i deputati del Movimento 5 Stelle, per trovare ulteriori conferme, facciano due telefonate ai loro colleghi al Governo centrale e chiedano. Considerato il momento delicato che tutto il Paese sta attraversando, conclude Razza, facciamo il nostro appello, lanciato appena poche ore fa dal presidente Sergio Mattarella, ad una responsabilità collettiva e finiamola con polemiche senza senso che nocciano alla nostra comunità. Parliamo della situazione attuale dei contagi in provincia di Ragusa. Sono in aumento il numero dei casi positivi nella provincia Iblea, 371, è il numero fornito dall'Asp, più della metà a Vittoria, dove i casi sono 195. A Ragusa, positivo, uno studente del liceo scientifico Enrico Fermi. Entro domani saranno effettuati i tamponi a tutta la classe che si trova in isolamento fiduciario. Una classe del liceo scientifico Enrico Fermi di Ragusa è in isolamento fiduciario. C'è anche uno studente dell'Istituto Scolastico Ebleo tra i 371 casi positivi accertati in provincia di Ragusa. Nella scuola il dirigente scolastico Ornella Campo ha attuato tutte le misure di sicurezza predisponendo la sanificazione dell'aula. Il giovane da 48 ore si trova a casa, ha dichiarato il dirigente. Sabato ha seguito le lezioni per mezzo della didattica digitale integrata. Il resto della classe tornerà a scuola dopo l'esito del tampone che sarà effettuato entro domani. A Vittoria, la città eblea più colpita per l'aumento del numero dei contagi, giunti a 195, sono ritornati in classe gli alunni del Plesso Centrale, del Plesso Consolino, dell'Istituto Comprensivo Portella della Ginestra, del Plesso Centrale Marconi, dell'Istituto Comprensivo Filippo Traina e della Scuola Primaria Santissimo Rosario del IV Circolo Rodare di Vittoria. Le scuole sono state sottoposte a sanificazione dopo che sono stati accertati dei casi positivi. Le classi di scuola primaria e secondaria dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII Colonna di Vittoria non svolgeranno le attività didattiche oggi per permettere la sanificazione dei locali, in quanto si sono verificati altri casi accertati di positività. E' quanto ha comunicato il dirigente scolastico Vittoria Lombardo a docenti e famiglie degli alunni. Rimane stabile la situazione dei ricoveri all'OMPA di Ragusa, 14 pazienti in malattie infettive, di cui 3 in subintensiva, 2 le persone ricoverate in terapia intensiva. Un paziente è stato trasferito nel Covid Hotel del Nosocomio Ragusano, dove attualmente sono disponibili 6 posti letto riservati ad agenti positivi e sintomatici che hanno superato la fase acuta del ricovero, ma che non possono fare rientro nel proprio domicilio. Nel pomeriggio un altro trasferimento nella nuova area dell'OMPA. Dall'inizio della pandemia ad oggi, hanno comunicato dall'ASP di Ragusa, sono stati processati 38.835 tamponi. E questa mattina abbiamo raggiunto l'OMPA, dove ieri è nata la foresteria. Di questo è molto altro. Il direttore dell'Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive di Ragusa, Maria Antonietta Di Rosolini, ha parlato ai nostri microfoni in un'ampia intervista trasmessa integralmente durante il Tg delle 16.30. Sentite. Un trattamento che risponde alle linee guida stabilite e alle condizioni che ci detta l'AIFA. Quindi adesso, rispetto all'esperienza che abbiamo fatto a marzo, in cui si parlava di alcuni farmaci ad azione antivirale o immunomodulante, grazie agli studi retrospettivi che sono stati fatti, si è visto che non hanno dato nessun miglioramento, non hanno inciso positivamente sulla mortalità ai 30 giorni, adesso non vengono più utilizzati. Invece è stato rispolverato l'utilizzo del cortisone che in un primo momento, nella prima fase di esperienza Covid, ci lasciava preoccupati, invece si è visto che soprattutto nella cascata citochinica è di valido aiuto e ci consente di non portare a peggioramento il paziente. Quindi soprattutto il cortisone e l'eparina. L'eparina è un farmaco che è molto importante per i pazienti in genere infettivi quando hanno una fase acuta. Nel Covid è importante perché determina delle lesioni sui vasi che facilitano un tromboembolismo, quindi l'eparina aiuta a risolvere questo quadro clinico. Più la terapia sintomatica che serve a sopperire alle esigenze che ha ogni paziente con il proprio quadro clinico. E infine per i primi 5 giorni usiamo un antibiotico, la zitromicina, che più che altro viene utilizzato sfruttando il suo meccanismo antivirale e immunomodulante. Infatti si dà nei primi 5 giorni da quando risulta positivo il paziente, cercando di bloccare la replicazione virale. Avete creato dalla giornata di ieri un reparto ad hoc proprio destinato alle persone asintomatiche che non hanno possibilità di svolgere, di portare a termine la quarantena all'interno dei propri domicili. Da ieri attiva la foresteria dell'ospedale del presidio ospedaliero Ompa che serve a garantire asilo ai pazienti che sono positivi, asintomatici e che non hanno la possibilità di stare in isolamento al proprio domicilio. Non è solo per questi. Questa foresteria garantisce l'asilo a questi pazienti che sono asintomatici. Quanti posti letto avete? Allo stato attuale 6. È occupato con un posto, nel pomeriggio ce ne sarà un secondo. Un uomo positivo aveva provato ad imbarcarsi su un volo di linea per Roma da Catania. È stato bloccato dalla polizia di frontiera. Nonostante fosse positivo alla Covid, un non senegalese di 35 anni ha cercato lo stesso di prendere un volo aereo. È successo a Catania, all'aeroporto Fontana Rossa. Il 30-50, incurante la sua positività, accertata tramite tampone oro faringeo effettuato pochi giorni prima, si è presentato ai banchi del check-in per espletare le pratiche di imbarco su un volo diretto a Roma, esibendo alla personale addetto sia il biglietto aereo che il passaporto, così come l'è permesso di soggiorno, ma anche il referto e il tampone indicante positivo al Covid. Immediatamente il passeggiore è stato isolato ed è stata attivata la procedura sanitaria con l'intervento del medico Usmaf, tramite anche l'arrivo di un'ambulanza attrezzata per il biocontenimento, così lo straniero è stato accompagnato presso l'ospedale Garibaldi di Catania. L'uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania. Carabinieri e varchi d'ingresso e di uscita per verificare che nessuno violi la zona rossa. Succede a Randazzo, che da ieri è in lockdown a caso dei tanti contagi da Covid-19 registrati. Da ieri mattina a Randazzo è zona rossa, dopo l'aumento dei casi positivi di Covid che si sono registrati. Ciò significa che non si può entrare e uscire dalla cittadina. Per questo motivo nei vari accessi della città sono stati istituiti posti di blocco presidiati dalle forze dell'ordine. Il provvedimento è stato preso dal Presidente della Regione Nello Musumeci, d'intesa con l'assessore alla salute Ruggero Razza, e resterà in vigore fino alle 24 del 26 ottobre. Nessuno dunque può circolare nel paese, nessuno può entrare. I carabinieri impongono l'alta, effettuano controlli e presidono il territorio. Un mini lockdown che serve a riportare la curva dei contagi a numeri più bassi perché c'è paura. E come per tutti i lockdown mirati, si può uscire solo una volta ogni giorno per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità. E negli esercizi commerciali, che possono rimanere aperti, si entra solo una persona per volta, sempre con l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Sono comunque consentiti l'asporto e la vendita al domicilio, sempre all'interno del territorio comunale. Girare nel paese è vietato sia a piedi che con qualsiasi mezzo pubblico e privato, fatta eccezione per indifferibili esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. La principale modalità di lavoro è lo smart working, con la promozione da parte dei datori di lavoro pubblici e privati della fruizione di ferie e congedi per i propri dipendenti. Ovviamente è chiusa anche le scuole di ogni ordine e grado, così come i servizi per l'infanzia. Alcuni dei contagi si sono registrati infatti tra i ragazzi che frequentano la scuola Rannazzo, ma sono residenti in altri comuni del comprensorio. Per quanto riguarda poi le cerimonie religiose, anche esse subiscono lo stop, consentiti solo i funerali a cui potranno partecipare massimo 15 persone. E adesso vi parliamo di due storie, quella di un'insegnante modicana e di un imprenditore vittoriese che hanno fornito la loro testimonianza essendo positivi al Covid-19. Un intervento andato in onda durante MTG delle 16.30. La storia è che mi sono ritrovata coinvolta in un'indagine epidemiologica, perché due settimane fa circa, quindi il 7 di ottobre, è stato il mio primo giorno di lavoro. Ho conosciuto le mie classi, come ogni anno, perché comunque questo è il mio quarto anno di insegnamento. Lunedì mattina, quindi dopo circa cinque giorni, la scuola mi chiama dicendomi che appunto un collega, un docente di una classe, era risultato positivo al coronavirus. Per cui mi sono armata di pazienza e di coraggio e mi sono regata all'ottosporto scolastico che è stato messo a disposizione dal comune di Torino. Cosa hai provato in quel momento, Giulia? Quando ti hanno chiamato e ti hanno detto c'è un tuo collega che è positivo al Covid, cosa hai provato? Allora, sul momento ho tanta paura, perché comunque è anche una questione molto immediata con quello del coronavirus, siamo passati da Messi, quindi lì con lì la mia prima reazione è stata la paura, però ho cercato di non perdere la lucidità e ho fatto il mio dovere. Sono andato immediatamente all'hotspot, ho fatto il tampone e mi sono chiusa in casa. Mi è avvenuta un po' di febbre in una notte, chiaramente se hai la febbre in questo periodo è lecito domandarti e dubitare se potesse essere Covid piuttosto che la semplice influenza e allora mi era venuto il pallino e quindi ho voluto fare il tampone. L'ho richiesta a domicile a casa, perché c'è possibilità di poter fare pure così, piuttosto che andare nello studio dell'analisi clinico all'aspo in ospedale. Mi è venuto a fare questo tampone, l'infermiere è molto gentile, professionale, preparato, veloce e dopo due giorni, purtroppo sono passati due giorni per darmi il risultato, sono risultato positivo. In tutta tranquillità, in tutta serenità ho appreso la notizia, ero tra virgolette un po' preparato e pronto, sai come quando dici qualcosa che non vuoi che ti accada, però comunque psicologicamente mi ero preparato, perché comunque alla fine sto bene. Cos'hai pensato? Oltretutto tu sei pure papà, quindi insomma cos'hai pensato? Chiaramente il pensiero va subito a chi è che ha il tuo stretto contatto, sul lavoro, in famiglia, a casa, mia moglie con la bambina, l'ho immediatamente fatti andare a Comiso dove stanno i miei suoceri, anche se sono messi in una stanza isolata perché si sono a loro volta isolati per non stare a contatto con i miei suoceri, in attesa di controlli e tamponi che stanno facendo i miei suoceri, che stanno facendo mia moglie con la bambina, quindi è tutta una quarantena familiare. Immagino, dalla tua indagine epidemiologica sono risultate essere positive altre persone? Sì, chiaramente sul posto di lavoro mio fratello e il mio collaboratore in primis, ma soprattutto loro più che altro, perché poi con i ragazzi che sono stati a contatto l'ultima settimana, tre giorni, quattro giorni hanno tutti fatto il tampone, sono tutti negativi, ma la cosa non significa niente perché il tampone va rifatto anche dopo. Applicare tutti i dispositivi di sicurezza entro sette giorni, altrimenti le palestre e le piscine dovranno chiudere, quanto annunciato dal Premier Conte. Siamo andati appunto in una palestra e i gestori non ci stanno a questo ultimato. Hanno sette giorni di tempo palestre e piscine per adeguarsi ai protocolli di sicurezza, lo ha detto il Premier Giuseppe Conte spiegando il nuovo DPCM entrato in vigore ieri. Se non ci si adegua si arriverà alla chiusura di questo comparto economico. Dunque servono i distanziamenti, serve l'igienizzante, la rilevazione della temperatura quando si entra in palestra e un numero massimo di allievi per ogni sala. Misure già conosciute e che sono state appunto applicate all'indomani della riapertura dopo il lockdown. Molte di queste misure infatti sono state già utilizzate da molti gestori di palestre che non ci stanno a chiudere e pagare le colpe di chi invece decide di non adeguarsi. Perché chiudere significherebbe far fallire migliaia di imprenditori e la conseguente disoccupazione per altrettanti lavoratori. Siamo parecchio amareggiati alla luce di quello che è stato detto proprio perché noi ci siamo adeguati alle regole che ha dato il decreto al 25 maggio quando abbiamo riaperto e da allora siamo adeguati in modo tale che comunque all'interno delle strutture sportive ci sia una regolamentazione degli ingressi, dei numeri e degli accessi in modo tale che si possa stare sereni, si possa fare sport diciamo in tutta sicurezza. Tra l'altro voi sottolineate il fatto che c'è chi si è adeguato subito ma c'è anche chi non si è adeguato e quindi per colpa di qualcuno può pagare un'intera categoria. Esattamente, ci dispiace proprio questo, il fatto che ci siano dei nostri colleghi che non si sono adeguati e che a causa di questo motivo ci possono mettere in crisi nel proseguire con il nostro lavoro che tra l'altro è il centro del benessere della persona quindi in questo momento è anche molto importante che la gente frequenti i centri sportivi perché sono sede di salute, di benessere e non di malati e di contagi. Anche perché già comunque un calo degli affari si è registrato, se dovesse arrivare alla chiusura significherebbe la morte economica per questo settore? Assolutamente sì, il calo è importante, almeno del 40-50% se non di più, poi dipende dai settori. Sì, credo che un altro lockdown potrebbe significare la morte del settore e io credo che sia davvero un peccato. Ci fermiamo, c'è una breve pausa pubblicitaria tra poco. Cresce la povertà in provincia di Catania, sono allarmanti i dati forniti dalla Caritas Etnea che evidenzia come con l'emergenza Covid ci siano tanti nuovi poveri. Sono preoccupanti i numeri che vengono forniti dalla Caritas Diocesana di Catania in relazione all'aumento degli interventi compiuti dal 2018 e dal 2019 e quanto rileva il secondo report dei servizi della stessa Caritas Etnea che conferma una tendenza negativa in atto nel corso degli ultimi anni e una decisa crescita della componente italiana che ormai ricopre circa il 60% delle richieste. Oltre 12.000 le unità in più che si sono registrate. Sono stati infatti 167.400 i passi preparati nella mensa cittadina includendo le unità di strada che ogni sera distribuisce passi alle persone senza dimora e altri 36.000 nella periferia. Le mensa e la Caritas Diocesana si trovano al Librino dove opera pranzo per quattro giorni a settimana la Beata D'Usmet e alla stazione centrale di Catania dove attraverso l'Health Center si garantisce la scena da lunedì al sabato e il pranzo domenicale. Tra il 2018 e il 2019 abbiamo riscontrato un aumento di bisogni, di povertà da parte dei nostri fratelli e delle nostre sorelle e per quanto riguarda già il servizio mensa come bene di prima necessità un aumento di 10.000 pasti e sono veramente numeri molto elevati. Il 2020 ancora di più stiamo riscontrando veramente dei numeri sempre più gravosi. Un aumento più forte perché ci sono i cosiddetti nuovi poveri? Sì, nuovi poveri, l'ex sceto medio, persone che si vergognano a venire in Caitas Diocesana. Parliamo di piccoli commercianti, di piccoli artigiani, persone che veramente sono coloro che fanno muovere l'economia in un momento veramente drammatico. Vengono con umiltà per cercare un aiuto per soddisfare la quotidianità del loro nucleo familiare. Come si può aiutare la Caritas? La Caritas quotidianamente viene aiutata dalla sensibilità di tanti benefattori che vengono e danno il loro contributo per realizzare delle opere segno, che vengono a donare degli alimenti. La forza dei volontari che, con spirito di sacrificio, a prescindere la pandemia, vengono a preparare dei pasti per i poveri. Ma basta collegarsi nei vari canali social, sia della pagina Facebook, sia sito internet che Instagram, lì sono presenti tutte le modalità per dare un aiuto concreto a chi magari in questo momento veramente ha tanto bisogno. Nella sua giornata di sopralluoghi per il sud-est della Sicilia, l'assessore regionale alle infrastrutture e mobilità Marco Falcone, dopo il collaudo dei viadotti della Siracusa Gela, si è recato a Ispica e Pozzallo. Con l'assessore Falcone i sindaci a Matuna e Leontini hanno discusso della strada provinciale 46 di collegamento, la Ispica e Pozzallo. Rientra in un finanziamento il governo regionale. Ci sono, come penso voi sapete, ben tre lotti. Il primo è in corso, il secondo lo realizzerà il CAS come opere di compensazione, il terzo è l'opera finanziata da 12 milioni di euro al libero consorzio di Ragusa. sta espletando delle procedure, le ultime procedure urbanistiche. Tra l'altro ci deve essere anche un passaggio al Consiglio Comunale di Ispica per consentire che questa strada possa essere conforme ai principi dettati urbanistici e dopodiché potremo avviare. Concludo il progetto, verificarlo, validarlo e avviare la gara. L'incontro è fondato su attività amministrative da parte mia e di governo da parte dell'assessore. a fuoco delle questioni che il Comune deve risolvere per le quali l'assessore sicuramente potrà essere molto attivo. Si è definito che oltre al primo tratto il cui rifacimento è in corso sono stati disposti altri due finanziamenti, uno di 3,5 milioni di euro per il secondo tratto che sarà di competenza del CAS e per la cui realizzazione il Consiglio Comunale di Ispica dovrà approvare una piccola variante. E un terzo intervento per un investimento di 12 milioni per la cui realizzazione il Libero Consorzio della provincia di Ragusa dovrà rinnovare i vincoli. Telecamere di videosorveglianza installate nella zona industriale di Ragusa e lungo la Ragusa Mare. L'appello dei titolari di aziende della zona industriale di Ragusa dopo numerosi furti è stato accolto. 27 telecamere alle quali si aggiungono delle speed dome, ovvero delle telecamere ad inseguimento che permettono di riprendere un veicolo in movimento seguendo nella sagoma. Da oggi attiva il sistema di videosorveglianza nella zona industriale di Ragusa e lungo la Ragusa Mare. L'installazione si è resa necessaria dopo i numerosi furti e danni delle attività prese di mira da ladri e malviventi. Un risultato, afferma il presidente di Sicindustria Ragusa, Leonardo Licitra, che risponde dopo tante richieste alle attese delle aziende che hanno sede nella zona. Nel 2018 abbiamo sollecitato l'IRSAP affinché venisse ripristinato. Sono state recuperate le risorse finanziarie necessarie, circa 35 mila euro. E finalmente nel 2020 è stato affidato il lavoro di manutenzione straordinaria alla Cattes RL che si occupa già del servizio di videosorveglianza per il comune di Ragusa. Il sistema di videosorveglianza è integrato con quello comunale e alcune telecamere sono presenti, come detto, sulla Ragusa Mare, di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. A questo punto, continua Licitra, occorre ripristinare l'impianto di illuminazione. La competenza del comune è anche in questo caso. Sicindustria è pronta a collaborare per trovare soluzioni veloci ed efficienti. Soddisfatto anche il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì. È una buona notizia che l'IRSAP ha comunicato. C'è di avere provveduto a recuperare l'impianto di videosorveglianza già preesistente nella zona industriale di Ragusa. Quindi da adesso, da qualche giorno, tutte le videocamere sono ben 26 e sono operative, sono attive e sono collegate con la centrale operativa della Polizia Municipale. Quindi possiamo dire che con questa iniziativa la zona è adeguatamente presidiata. Con questo è tutto. Grazie per la vostra attenzione e buona serata. Grazie. Grazie.